In questa puntata di Unicam News proseguono senza sosta i lavori nel cantiere del centro di ricerca Unicam. A fine mese la consegna dei nuovi alloggi. Discusse in presenza le tesi della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani di Unicam. Ripartite le attività nei laboratori di ricerca e didattici di Unicam. Nuovo corso di laurea Unicam in ambiente gestione sostenibile delle risorse naturali. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. Procedono speditamente i lavori nel cantiere per la costruzione del nuovo centro di ricerca Unicam realizzato grazie al cofinanziamento da parte della regione Marche tramite i fondi della protezione civile nazionale e progettato interamente dai docenti della Scuola di Architettura e Design. Il centro di ricerca ospiterà in circa 6.500 metri quadrati 44 laboratori e altrettanti uffici, alcune sale studio e un'aula per piccole conferenze. Nei prossimi giorni sarà effettuata anche una prova di resistenza sismica della struttura. Saranno invece inaugurate a fine mese, nel rispetto dei tempi previsti, le due nuove palazzine a completamento del campus universitario, realizzate grazie alla donazione di Croce Rossa Italiana, del governo canadese e della Croce Rossa canadese, che consentiranno di avere a disposizione degli studenti ulteriori 40 posti letto. L'Università di Camerino non si è mai fermata durante il periodo del lockdown, continuando a derogare la didattica in modalità telematica e consentendo alle studentesse e agli studenti di poter concludere il proprio percorso di studi nei tempi previsti. Davvero molto emozionante è stata nei giorni scorsi la discussione delle tesi e la consegna degli attestati e degli studi compiuti presso la Scuola di Studi Superiore Carlo Urbani, tenutasi di nuovo in presenza presso il Polo di Informatica. La Scuola di Studi Superiore Carlo Urbani rappresenta un'eccellenza per valorizzare i giovani talenti e lo hanno dimostrato i tre neodiplomati, due studenti nella sede di Camerino, Jacopo Angeletti ed Emanuele Silvi, ed una studentessa, Silvia Grilli, collegata da Londra perché è impegnata all'Imperial College. Tutti, dopo aver conseguito brillantemente la laurea magistrale in Unicam, hanno ottenuto il diploma della Scuola Urbani con una votazione di 100 su 100 elode. Vorrei provare a raccontare l'emozione che abbiamo vissuto oggi, un'emozione forte, un'emozione quasi, non dico paragonabile a quella del mio diploma di laurea, ma ci siamo andati vicini. E' stato un vero inizio oggi, un inizio che sappiamo essere quasi un unicum per il momento a livello nazionale. Abbiamo cercato di capire se nelle nostre strutture, con le regole che ci sono state date, era possibile svolgere in sicurezza questa cerimonia, questa presentazione del lavoro svolto da parte di tre ragazze e ragazzi del nostro Ateneo. L'eccellenza assoluta, dimostrata dalla qualità dei lavori, dai percorsi che hanno seguito, che hanno svolto, dalle università con le quali hanno collaborato. Sono rimasto veramente impressionato dalla qualità del lavoro, che è propedeutico a quelli che potranno essere domani veramente dei grandi ricercatori o comunque dei soggetti veramente deputati a sostenere questo Paese. I presenti oggi hanno potuto verificare il livello di preparazione e di competenza dei dottori che hanno esposto il lavoro di tesi della scuola. E' una scuola di eccellenza, è una scuola che ha lo scopo di trovare i talenti e coltivare i talenti. Offre tantissime opportunità. Ho avuto modo di parlare con i candidati prima della presentazione e tutti hanno evidenziato questo aspetto, cioè che Unicam e la scuola urbana hanno offerto loro delle possibilità che magari non sarebbero stati possibili, che ha permesso di esprimere tutto il loro potenziale, il loro talento e il fatto che all'estero siano molto apprezzati, come dimostrano già lavori scientifici con coautori studenti della scuola urbana o centri di ricerca, come l'Imperial College che offre un corso di dottorato a una nostra studentessa è sicuramente motivo di orgoglio e questo indica che stiamo andando nella direzione giusta e dobbiamo continuare così. Sono sempre maggiori le richieste da parte degli studenti degli Atenei italiani relative alla ripresa delle lezioni e delle attività laboratoriali. Non è il caso dell'Università di Camerino che non ha mai chiuso, non si è mai fermata, ha solamente cambiato le modalità di erogazione delle attività didattiche e dei servizi utilizzando la piattaforma telematica Cisco WebEx. Sono state solo calendarizzate in maniera diversa alcune attività nei laboratori di ricerca che tuttavia dallo scorso 4 maggio sono riprese in tutta sicurezza, rispettando tutte le norme sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, garantendo pertanto non solo la prosecuzione di alcune attività di ricerca, ma anche la possibilità di accesso ai nostri studenti tesisti che hanno così potuto concludere il loro percorso di studio e laurearsi nei tempi previsti secondo i loro progetti. Nel mese di giugno poi sono riprese anche le attività nei laboratori didattici, laddove i numeri e gli spazi delle strutture lo hanno consentito, in particolare per alcuni corsi della Scuola di Scienze e Tecnologie, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Dal prossimo anno accademico sarà attivo il nuovo corso di laurea triennale in ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali. L'innovativo percorso di studi sarà tenuto in lingua italiana ed inserito all'interno dell'offerta formativa della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Unicam dunque decide di implementare l'investimento culturale e tecnologico sulla sostenibilità ambientale, affiancando il nuovo corso incentrato sulle scienze naturali al corso anch'esso nuovo in scienze geologiche e tecnologie per l'ambiente. Il corso è strutturato in due curricula. Il primo, gestione e valorizzazione delle risorse naturali, è maggiormente incentrato sulle classiche scienze naturali ed ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze di base sui temi della botanica, della zoologia e dell'ecologia abbinati ad una forte acquisizione di capacità pratiche finalizzate alla gestione sostenibile degli ecosistemi e alla conservazione della biodiversità. Il secondo, sostenibilità ambientale delle produzioni e green economy, ha invece l'obiettivo di formare una figura professionale in grado di affrontare le nuove sfide ambientali e cogliere le opportunità di lavoro nei settori dell'economia circolare, della sostenibilità, delle produzioni e della qualità degli ambienti rurali ed urbani. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Io mi fermo qui, non ci sono altre notizie. Vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul sito internet www.unicam.it. A tutti voi, grazie per essere stati con noi e buona serata.